Buongiorno a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo di idrogeno. Il bivio, le auto a idrogeno offrono un futuro migliore di quelle elettriche? In che modo un cristiano dovrebbe vedere l'ambientalismo? Le vendite di auto elettriche a batteria BEVS sono in aumento in tutta Europa e, secondo l'annuale Global Electric Vehicle Outlook, ogni settimana ne vengono vendute di più rispetto all'intero 2012. Ma nonostante la crescente popolarità, la carenza di componenti chiave per le batterie, inclusi litio, nickel e cobalto, potrebbero minacciare l'approvvigionamento. Quindi è tempo di concentrarsi sull'energia basata sull'idrogeno? A differenza dell'Europa, dove ci sono solo una manciata di auto a idrogeno in vendita e circa 228 stazioni di rifornimento, l'Asia scommette sull'idrogeno. Il governo giapponese prevede di avere 800.000 veicoli a idrogeno sulle strade entro il 2030, mentre la Cina ha fissato un obiettivo ambizioso di un milione entro il 2035. È probabile che questi primi passi riducano i costi, aumentino il volume e sviluppino la catena di approvvigionamento. Anche le case automobilistiche restano divise e, ad eccezione di Toyota e Hyundai, poche stanno investendo sull'idrogeno. Mentre recentemente però la BMW sta rinnovando il suo interesse e vede un ruolo per le auto alimentate a idrogeno da affiancare a quelle elettriche. Ha in programma di lanciare un piccolo numero di auto BMW ix5 idrogeno in tutto il mondo a partire dalla fine di quest'anno, inizialmente a solo scopo di test. Come fonte di energia versatile, l'idrogeno ha un ruolo chiave da svolgere sulla strada verso la neutralità climatica, ha affermato Oliver Zips, presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW iG. Il gruppo Stellantis ha anche intrapreso una produzione limitata di furgoni a idrogeno commerciali, ma non tutti sono d'accordo. Mercedes ha accantonato i piani per immettere sul mercato auto a combustibile a idrogeno, così come Audi. Qual è la differenza tra un'auto elettrica e un'auto a idrogeno? In parole povere, un veicolo elettrico a batteria è alimentato dall'elettricità immagazzinata in una batteria e si ricarica collegandosi alla rete elettrica. Un veicolo elettrico a celle a combustibile a idrogeno produce invece la propria elettricità attraverso una reazione chimica nella sua pila di celle a combustibile. Questa elettricità poi alimenta i motori per le ruote e l'unica emissione e il vapore acqueo. Le auto a celle a combustibile a idrogeno vengono rifornite in specifiche stazioni di servizio. Il bello di un'auto a idrogeno è che si può ricaricare nel tempo necessario per rifornire un'auto a benzina o diesel. Raggiunge un'autonomia simile e tutto questo producendo emissioni zero. Perché l'idrogeno non prende piede? L'idrogeno presenta una serie di sfide, dalla bassa efficienza a causa di elevate perdite di energia ai costi elevati. Il modo più pulito per produrre idrogeno è l'elettrolisi. Il processo di utilizzo dell'elettricità per dividere l'acqua in idrogeno è ossigeno ma è ad alta intensità energetica e l'efficienza è ben al di sotto del 100%. Nel momento in cui si trasporta l'idrogeno ad una stazione di rifornimento si sono verificate più perdite e, anche se è possibile bypassare la fase di trasporto, il costo dello stoccaggio è elevato. Si stima che, quando ci si mette in viaggio e l'idrogeno viene convertito in elettricità nell'auto, viene utilizzato solo il 38% circa dell'elettricità originale. Infrastrutture scadenti, il punto chiave di vendita delle auto a idrogeno è che possono fare rifornimento in pochi minuti, gioconostante trovare un posto dove rifornire un'auto a idrogeno è molto difficile. Qui sta il problema. Chi comprerà le auto a idrogeno se le stazioni di rifornimento non esistono? E chi investirà nelle stazioni di rifornimento se le auto non saranno disponibili? Il rischio di investimento iniziale della costruzione di un'infrastruttura per l'idrogeno è troppo alto per una singola azienda, quindi è probabile che affrontare questo problema richieda una pianificazione e un coordinamento che riunisca governi, industria e investitori. Idrogeno infiammabile. L'idrogeno è altamente infiammabile, difficile da immagazzinare e rappresenta un rischio per la sicurezza in caso di incidente. Tuttavia le case automobilistiche come Toyota insistono sul fatto che le auto elettriche a celle a combustibile sono sicure quanto i veicoli convenzionali. La casa automobilistica giapponese ha trascorso molti anni a testare auto alimentate a idrogeno in condizioni e temperature estreme per garantire che possano essere utilizzate in modo sicuro e affidabile. Quali auto a idrogeno si possono comprare? Mentre le nuove auto elettriche vengono lanciate regolarmente ci sono solo due auto a idrogeno disponibili per l'acquisto in Europa, il SUV Hyundai Nexo e la Toyota Mirai. Peraltro le auto a idrogeno non sono solo costose da acquistare ma sono anche costose da rifornire di carburante. L'entità del prezzo rispetto alla ricarica di un'auto elettrica varia notevolmente tra i paesi. Cosa riserva il futuro per l'idrogeno e le auto elettriche? Non c'è uniformità di giudizio sul fatto che ci sia un posto per entrambe le tecnologie. Le BEV sono prive di problemi sono costose e possono richiedere molto tempo per ricaricarsi. Inoltre le auto elettriche possono non generare emissioni dallo scarico ma le fonti di alimentazione della batteria, il riciclaggio dei suoi componenti e la produzione dei veicoli e delle batterie contribuiscono alle emissioni di carbonio senza contare che l'estrazione di molte delle batterie prime solleva problemi sia etiche che ambientali. Tuttavia la mancanza di un'infrastruttura per il rifornimento di erogeno, le sfide legate al trasporto del carburante e il fatto che per far muovere un veicolo a idrogeno è necessaria molta più energia rispetto a un veicolo elettrico a batteria significa che almeno per ora il futuro è ancora elettrico a batteria. In che modo un cristiano dovrebbe vedere l'ambientalismo. Esiste differenza tra la visione biblica dell'ambiente e il movimento politico noto come ambientalismo? Capire tale differenza renderà chiara la visione cristiana riguardo l'ambientalismo. La Bibbia afferma chiaramente che la terra e tutto ciò che essa contiene sono state date da Dio all'uomo per governarla e assoggettarla e Dio li benedisse e Dio disse loro siate fruttiferi e moltiplicatevi riempite la terra e soggiocatela e dominate sui pesci del mare e sui uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Genesi 1, 28 essendo stati creati a sua immagine Dio diede agli uomini e alle donne un posto privilegiato tra tutte le creature e comandò loro di gestire la terra. Genesi 1, 26, 28. Salmo 8, 6, 8. Tale compito significa prendersi cura della terra, non abusarle. Dobbiamo gestire in modo intelligente le risorse che Dio ci ha dato, operando con diligenza per preservarle e proteggerle. Questo viene visto nell'Antico Testamento dove Dio comandò che i campi e i vigneti venissero seminati e mieduti per sei anni e poi lasciati a Magese per il settimo anno per rifornire il terreno di sostanze nutrienti, sia per dare riposo alla terra che per assicurare una provvigione continua per il suo popolo nel futuro. Esodo 23, 10, 11. Levitico 25, 1, 7. Oltre al nostro ruolo di custodi dobbiamo apprezzare la funzionalità e la bellezza dell'ambiente. Nella sua incredibile grazia e potere Dio ha fornito questo pianeta di tutto ciò che è necessario per nutrire, vestire e ospitare miliardi di persone che ci hanno vissuto sin dal giardino dell'Eden. Tutte le risorse che Dio ha provveduto per i nostri bisogni sono rinnovabili e Degli continua a provvedere il sole e la pioggia necessari per sostenere e reintegrare tali risorse. Se ciò non fosse abbastanza, Dio ha anche decorato il pianeta con colori gloriosi e panorami meravigliosi per affascinare il nostro senso estetico ed entusiasmare le nostre anime riempendole di meraviglia. Esistono innumerevoli varietà di fiori, uccelli esotici e altre manifestazioni della sua grazia per noi. Allo stesso tempo la Terra nella quale abitiamo non è un pianeta eterno e tantomeno Dio lo intende come tale. Il movimento ambientalista si affanna nel tentativo di preservare il pianeta per sempre, mentre sappiamo che questo non è il disegno di Dio. Egli ci dice in secondo Pietro 3.10 che alla fine dell'età presente la Terra e tutto quello che Lui ha creato verranno distrutti. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si risolveranno consumati dal calore e la Terra e le opere che sono in essa saranno arse. La Terra fisica naturale nella sua forma attuale con l'intero universo verranno consumati e Dio creerà un nuovo cielo ed una nuova Terra. Secondo Pietro 3.13 Apocalisse 21.1 Così piuttosto che provare a preservare la Terra per migliaia o persino milioni di anni a venire, dobbiamo esserne dei buoni custodi fin tanto che durerà, ovvero finché servirà al disegno e allo scopo sovrano di Dio. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni, spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro ed utile soprattutto. Se avete domande o suggerimenti iscrivetevi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate con il mio nome Bruno Pepi o Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure nel nuovo canale dei Salmi. Se volete fare una donazione per far crescere questo canale YouTube o donare una decima a Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, cliccate sul link di Paypal o copiatelo. Bene, iscrivetevi e mettete like, arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.